Buongiorno a tutti i miei ragazzi, siamo qui su Pro Resolution Soccer 2017 Un gioco di merda E ragazzi, questo è un gioco di merda Questo è un gioco di merda Purtroppo 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 è un gioco di merda Ragazzi, purtroppo per me Secondo me che non sarà mai più In quei tempi loro C'è anche quest'anno Secondo me hanno fatto Hanno fatto un gioco che Secondo me non era la testa del calcio Veramente Ma troviamola Questa vediamo insieme Io sto per Unirarla No, ma cos'è il tuo schifo? Oddio, gioco di merda Oh Non mi annaccia a te Ti stacco le cabine Dio Ma poi alza la bandierina Eh, Arbit, ma è Buongiorno, non ci credo Ma Ma hai alzato la bandierina Ragazzi, l'Arbit Ha alzato la bandierina Di fuori gioco Quanto pare E poi cosa succede E poi ci è stato il spallo A capire in giallo Ma Non lo so Beh Beh Pazzata Attenzione E' il Dagnale C'è incredibilmente Ancora il Barcellona Ecco, calcio di rigore Questo è un errore gravissimo Dai Ecco, calcio di rigore Ok, perfetto Signori, calcio di rigore Va Vabbè, rigore Vabbè Ma noi lo pariamo ragazzi Lo pariamo Messi, Conzo, Oblak Messi Ma non ci credo Porco Dio Non ci credo Va Mamma mia Oblak Ma Oh, non serve per il Barcellona Puttana Maiala Ah, si riparte Tiago Vediamo le skill Mamma mia Che skill Che perde palla Attenzione Rakitic Rakitic Attenzione Se fosse l'atletico Ci prova Ci prova Ragazzi Ci prova E lo trova Saul Saul E tiro Ma Non ci credo Non ci crediamo Non ci credo Gabi Gleisman E tira L'aviazione incredibile Bacchanal sta soffrendo Sta soffrendo Letteralmente Sta soffrendo Bacchanal Mamma mia Sto per spaccare Tutti Sto per Mamma mia Ragazzi Voi non hai idea 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 Non hai idea Di che spaccherai Tutti Spaccherai Tutti In quel momento Non è impossibile Pes Cazzo Fai Dio Cane Cane Dio Mi metto Mi metto Un gatto Sulla testa Guardi Mi metto Un gatto Sulla testa In questo momento Pancazze Ragazzi Dai ma sei lentissimo Dai ma non è impossibile Ho fatto un taglio Della madonna Ora beh Ho fatto un taglio Della madonna Guardi Ma che cazzo Fa copia Ma andate a fare In culo Guardi Limpalla Grande teca Guardi Limpalla 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 E' di merda Mi da fastidio Sto gioco di merda Mi da fastidio Tanto Ma mamma C'è non è che Lo faccio a posto E' che Fa schifo Pes mi fa già vomitare Non c'è verso Passa là Grifon E tiro E tiro Vado a me cazzatini Mamma mia Sono incazzato nero Sono incazzato nero Non aveva idea Ma sono incazzato nero Incazzato nero Tagliela Buona è buona Non mi dì che faccio Torres Sei una merda Torres Sei una merda Andai a fare in culo E fare in culo Torres di merda Sei una merda Lento Sfatto Sghiota Ma dai Non è possibile Dai Ma dai Non può correre così lento Dai Minchia Ma quanto Cazzo c'ha nelle gambe Cazzo c'ha nelle gambe Dai Dio Cristo Ma dai Non è possibile Ostia Non è possibile Ho fatto La Chiota di alba In un secondo E ora Ma come Dai Bella 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 Questa Ma porca troia Metti da dentro Dio 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 Dai Filippo e Luiz Dai Che cazzo c'hai Filippo e Luiz Madonna Non è possibile Sta roba Ma non è possibile Ragazzi Guardi Non è possibile Mamma mia Mon Come Perché Ma Madonna Ragazzi Non è possibile Quanto fa schifo Perso ma vergogna oh vergognati vergognati uno dei giochi migliori nel 2009 2010 ecco 2008 anche, uno dei migliori videojocchi al mondo e poi cosa fai? uuuh cadastro la mette uuuh uno uno allo scadene dietro ha segnato proprio a lui ha segnato a lui incredibile proprio a lui proprio a lui al novanta setimo minuto abbiamo entrato ragazzi da Pognino Torres all'ultimo respiro questo mi piace uno due tre quattro cinque vai e andiamo signori ci siamo meritata meritatissimo novantacinquesimo e finisce qua finisce qua no 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 bacia una minima lì e questo va bene comunque per spai cagare per spai cagare sono semplici motivi perché questi non sono i gameplay che la gente vuole capisco è molto realistico ragazzi dai dai parliamo chiaramente per c'è un stile di gioco molto realistico al calcio ovvero ci sono movimenti realistici e tutto passaggi scivolati però però quando quando si gioca non è non è accettabile dai un stile di gioco così lento no a me dispiace ma a me da fastidio a me a me da fastidio va veramente perché ecco adesso ho salvato il videoclip perché il gatto non mi va di prepararlo perché io c'ho un problema in case in questo computer e così ragazzi test una volta fu bello e lo sarà e adesso questo test anzi che sarà non sarà mai più bello ragazzi ho detto era bello e non sarà mai più bello a quanto pare perché i tempi d'oro erano anche nel 2008 quando io provo provare la demo mi sono innamorato di questo gioco poi l'ho comprato nel 2009 mi sono innamoratissimo nel 2010 innamorato rato 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 proprio e poi è arrivato quel maledetto 2011 che diciamo è calato molto ragazzi questo è tutto per 2017 la demo io questo gioco quest'anno non lo compro non lo compro già così ho comprato gli europei principalmente per gli europei ma secondo me quei soldi non ne valevano tanto 30 euro ma ormai quello che è ragazzi sia il 2017 esce martedì esce martedì spero di portarlo il più presto possibile perché spero che è bello magari se è brutto anche quello dico un gioco di merda anche quello è un gioco di merda spero di no sennò sennò che cazzo faccio tutta la storia un nuovo tempo libero signore ringrazio il saluto lasciate un commento mi piace scrivetelo ci vediamo al prossimo video